Mercoledì 13 luglio 2016, la prima amichevole della pre-season bianco-celeste, versione 2016-2017. Un saluto bianco-celeste da parte di Luigi Sinibaldi. Ci siamo dunque, da Ronzo Di Cadore, campo Rodolfo Zandegiacomo per la prima uscita stagionale degli ragazzi allenati da Simone Inzaghi. Spazio per il sinistro, ha cercato il cross e cerca di trovare lo spazio giusto. Eccolo qui, il colpo di testa da parte di Giorgiovic ed è il primo gol del match. Adesso basta, prova l'azione personale Giorgiovic, la zona Milinkovic, gran numero Milinkovic! Gran numero e 2-0 bianco-celeste. Pallone largo, Giorgiovic dentro l'area di rigore, sta per calciare il pallone, poi intervento non perfetto da parte del pese di Ronzo. Ha cercato il gol, Ricky Kishna e lo ha trovato. Basta, viene chiamato il pallone, Milinkovic ha chiamato Dushi Dushi, alla fine riesce a servirlo, basta. Ancora Milinkovic, palla centrale per Giorgiovic, buon movimento, poi chiama al cross Lulic, arriva adesso, palo in basso! E' intervenuto Criso Economidis, 4-0 bianco-celeste. Pallone sul sinistro come consuetudine, poi Cataldi, secondo palo ancora, Milinkovic di prima dentro verso Giorgiovic! E poi sul secondo palo è intervenuto Maurizio, che ha messo dentro il gol numero 5. Ancora Giorgiovic, zona centrale, sempre Giorgiovic, palla dentro, ottima verso Lulic. Lulic altruista per Oikonomidis! Bravissimo Senad, poteva segnare lui, grande gesto di altruismo. Con il sinistro, pallone buono per Oikonomidis, avanti la porta, Oikonomidis salta il portiere e mette il pallone nel sacco. Grandissimo gol, bello il passaggio. Ancora Cris, cercato lo scatto ancora Giorgiovic, alla rigore ancora Giorgiovic, dentro c'è Milinkovic. Pone proprio per lui, Milinkovic, palla dentro sul secondo palo, al ventinovesimo, palla dentro, salta Giorgiovic e mette dentro il gol numero 9 dell'incontro. Al trentaseiesimo, scatta verso l'area della bronza, ancora Oikonomidis, ne fa fuori tre, ancora Cris, sembra un'azione di stampo reggistico. Poi Chisna, deviazione e gol di Chisna. Il gol è sicuramente suo, solitamente preciso Stefano Efrà. Intanto c'è il gol di Simone Palombi, che salta anche il portiere. Simone Palombi segna il gol numero 11 in partita. Cross dentro e il gol siglato da Alessandro Murgia. Morrison carica il destro, poi anche pallonetto, palo! E poi Chisna mette dentro. Morrison, attenzione sempre a Morrison, carica il destro, un gol bellissimo da parte di Ravel Morrison. Anche lui a segno, il suo gol è salutato dall'esultanza da parte del popolo bianco celeste. Chisna, la finta, un azi per Chisna, a rigore. Chisna e la mette dentro per il gol del 15 a 0. Quindi Murgia, sbarazza di un avversario, ancora Murgia, palla dentro. Javorcic, c'era di rigore. Javorcic davanti alla porta e poi segna il gol della Lazio, numero 16 in questa partita. Servizio per Javorcic, quindi Onazzi per Lombardi che può andare dritto in porta. Lombardi, Lombardi! Dentro è il gol numero 17 della Lazio. Germoni per Morrison, ancora Germoni che decide di andare all'arrembaggio in zona centrale. Germoni, buono il tocco verso Onazzi, deve girarsi. Arriva Onazzi, carica il destro, Onazzi! E gol della Lazio al quarantesimo. Va via con un gran numero, Germoni, era di rigore. Germoni, per tutto da solo, Germoni! E calcio di rigore, azione cost to cost di Luca Germoni. Sull'ultimo tocco, sono steso a terra. Onazzi e fanno una cosa incredibile. Lazio ha segnato un calcio di rigore come faceva una volta Johan Cruyff. Finisce qui il match, ha fischiato tre volte l'arbitro Luca Balbinot di Belluno, dunque 19 a 0.